finita la terza gara sono le 11 esatte ecco anche questa la gara delle 11 sempre qui trofeo degli olivi roevociano trofeo degli olivi roevociano siamo in zona traguardo aspettiamo le premiazioni delle prime gare ha vinto posta lazaroni campione italiano lo conosciamo molto bene costa il secondo un ottimo vittorio oliva sono già i primi contorrenti nel numero 10 riusciremo a rendere un momento la gara e andiamo in prenazioni per la punta grazie allora adesso vi chiediamo dal podio perchè siamo pronti e proseguono i video eh